Eccoci qua su un nuovo video di Clash Royale, sono Gion95 e qui siamo su questo video per fare l'evento e partiamo subito per fare l'evento Dai speriamo di vincere subito Vabbè le danze dell'anne le abbiamo fatte Vabbè Poi Perché è il peccato che c'è il tono invece di beccare i goblin? Eh non lo so io L'abbiamo fatto danno però non quel danno che volevo No ho troppo amati la strega Eh vabbè Se sei brutto Se sei brutto lo devi dire subito eh Ah è vero scusa L'hai detto dal nome Fai paura quando ti guardano Me ne ho scordato scusa Scusa E io devo recuperare Non mi fai gai niente quello che vuoi tu ma io devo recuperare Moschettiere Moschettiere Gigante Scherrette Barile Frecce No frecce non servono Non servono Non servono Servono Ok No Perché hai avuto il barile? Ho buttato la palla di fuoco No vabbè Se bug Sti bug Sti bug Beh comunque vi faccio vedere quando ci arrivo perchè altrimenti diventa lunga la storia eh Eccoci qua tornati Eccoci qua tornati Allora sono al Riuscito ad arrivare alla terza Così vi faccio vedere la terza Direttamente Ho cambiato il mazzo in modo da riuscire ad andare Ho visto che le prime due parti sono andate bene Quindi ho fatto Facciamo sul terzo Qui ci vedono esattamente un po' troppo Allora Allora Arcerico in fondo Vai Cavaliere Tommatore Moschettiere Speriamo che non abbia palla di fuoco Sembra di no Sembra Io si però Quindi se non ti piace la butta Famo Però Fa un sacco di danno con il canale di salito Nooo Quella roba lì Ehm Mini Pekka fa ancora più danno Abbiamo iniziato malissimo sta partita Ho appena finito di dire che sono Che questo mazzo andava bene E poi va male Misteri della vita Cavaliere in fondo Come difesa Ok Il gigante è buttato dall'altra parte Noi buttiamo strega Cavaliere E alla palla di fuoco E alla palla di fuoco Barina Era pronta nella strega credo No niente No niente Ci ho provato Noo Gigante Via 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 Diciamo che ho counterato abbastanza Mi sono fatto subire troppi danni Dombatore 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 E strega No mini Pekka E' un colpo Dombatore E' un colpo Dombatore E' un colpo Dombatore Noo 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 maledetto Oddio Fai almeno la torre A me non mi ha fatto tre coloni Niente Chi sa perché quando devo registrare Non Finco mai O quasi poco volte Vabbè ci troviamo qua Saltò il pezzo in cui non c'è il video Non c'è la partita E' inutile che fai incavola Sono più cavato io di te Eh va bene Adesso perderemo pure questo Stai a vedere No Dai dai butta giù tutto No labbra di fuoco sua Dombatore Vai Ok Non mi piace la carta Però è forte Vai che danni le fai Accede il cielo Via via Cavaliere Cavaliere e poi ci lasciamo il barile Ok I nostri bei danni ce li siamo fatti Quindi lasciamo andare Siamo in vantaggio Guarda di perdere perché Se mi fai labbiare Dai Questa è mia Devo mettere io per forza Dai un altro colpo Bravo lì Dai dai butta su tutto No la parola di fuoco adesso No la parola di fuoco adesso No la parola di fuoco adesso No ce l'ha fatta Niente c'è tutto c'è tutto Guarda 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 Adesso può buttare un'altra parola di fuoco E' ancora lì Dai 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 Moschettiera Dai dai Ok Mia parola di fuoco E' mia Si Così impari No no Gli ho fatto capire chi comanda Comando io Inutile E abbiamo finito qua Ok Sbloccato il secondo Ci uniamo Perfetto Poi vabbè creo il mazzo Poi quando Quando siamo arrivati alla terza partita Poi vi faccio ripartire Come al solito Allora Ha funzionato per due volte il mazzo Adesso vediamo di riuscire a farla funzionare Anche per La terza partita che E' durante il video Ok Allora vediamo Un attimino Dai Esco lo schettro gigante Forse è buttato troppo presto Dai Dai vai giù quella Eccolo lì Vediamo se ha le frecce Le ha Guarda abbiamo fatto un sacco di danni Dai roccelli dai Quelli che ho fatto a fermarli perché comunque qualche danno lo danno Alla torre E' infatti E' così E' perfetto Il droghetto è arrivato ma Adesso lo buttiamo giù E' buttato giù quella roba che ho buttato le freccee Bam Via così E' eccolo lì E' arrivato a torre Perfetto Tutto fatto e completato Ora dobbiamo solo registrare Ma che ci importa registrare Ok Non ha la parola di fuoco quindi non può fare niente Andiamo a scattare giù dall'altra parte così è costretto a difendersi Ho la strega dietro naturalmente Mi sa che si è arreso eh Ha capito Ci ha arreso Ecco a posto No non ci ha arreso però C'è un vantaggio Due torri abbiamo Ok Dai strega fai il tuo lavoro Ok il tuo lavoro non l'ha fatto ma comunque Abbiamo vinto Questa torre non l'ha presa Non l'abbiamo presa due E lui una Quindi abbiamo vinto noi L'ho vinto io Qua c'è la terza perchè comunque la torre è quasi giù la sua Va bene Questa fatta andiamo sul terzo Dai connessione parte Dami sto cosa Un po' di ora Perfetto Quattro mascherzoni Otto barbari Quattordici pari di neve E nove domatore Ok Ora siamo arrivati alla terza arena Vai Le altre tre si sbloccano Fra un giorno e sedici ore Quindi non si possono fare adesso Ma questo possiamo farlo Ok 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 ci siamo Mmm Siamo contro Gesù Ma noi possiamo vincere Dai Noi sono più forti Dai Vai Allora Vai vai Valchido Fai qualcosa di Fonda Perfetto Noo Corvano Non c'è Non c'è cosa da fare Bisogna Dove devi vincere la sua strega Porca miseria Dai Ehhh va be' è arrivato Mi sa che Gesù è troppo forte Dai su allora Adesso dobbiamo recuperare Allora Strega di qua Un draghetto di là Valkyria Parire babbatico Casino Palla di fuoco Dai 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 Perfetto Vai golem Dai stiamo facendo un recupero incredibile Sì che recupero Allora Dopo questa partita leggendale Voglio almeno 3 like Allora Ok 10 gemme Ok vi ho completato la sfida dell'arena 1 su 4 Allora Apriamo i boli qua Le cose Apriamo le cose Ok 50 oltre di sgherde Va bene Ok Poi prendiamo questo bolle qua Quasi 20.000 2 gemme 4 Dai L'epica esce L'epica esce Perfetto Ok Direi che qua è tutto La sfida l'abbiamo fatta E noi ci troviamo qua Nel prossimo video